Un amico che ci scrive, il nostro amico Michael da Pesaro, perché tu sai che noi abbiamo i nostri fedelissimi. L'importante è che non sia Michael della Roma. No, lui è Michael. Allora Michael ci scrive, Juventus grande sia dentro che fuori dal campo, infatti con l'appoggio dei più grandi club bianconeri di tutta Italia, la Juventus metterà a disposizione dei propri tifosi il trofeo del 32esimo scudetto, che il 30 maggio sarà visibile a Senigallia, hotel La Rotonda a Mare. L'incasso verrà devoluto agli alluvionati della piccola cittadina marchigiana. Sappiamo che appunto Senigallia ha avuto questo grave problema. D'altronde siamo juventini, lo stile è nel nostro DNA. Un saluto a tutti voi, siete i migliori. Grazie mille Michael, un bacione. Gentilissimo, però ha detto delle cose vere. Ha raccontato anche una chicca, una cosa molto carina, ed è bello che la Juventus partecipi a queste cose, insomma, no? Moltissimo. Esatto.